Questo risultato a scapito nostro del Cesena ha sicuramente alzato la quota, la salvezza. Venti giorni fa si poteva pensare, o tanti dicevano, che era sotto i 40, adesso più di qualcuno già oggi dice che 40 per essere sicuri sarà 43. Domenica succede una serie di coincidenze, di risultati, magari pronti ad abbassarla o potuti ad alzarla. Sicuramente ci sono delle cose che hanno portato a non sviluppare al top le capacità effettive di questa squadra. Perché è una squadra che vale sicuramente a qualche punto in più.